È la prima festa così forte, così coinvolgente del mondo intero che sarà la festa mai stata fatta a livello europeo. Sarà un primato per Napoli e un primato per l'associazione APEI che contribuisce con volontà e forza per portare quella che è la socializzazione ma una cerimonia importante, il matrimonio, che è praticamente la continuazione della società, il matrimonio. Una volta nei simboli era indivisibile il taglio a due mani, cosa vuol dire? Vuol dire da oggi in poi le decisioni le prenderemo in due, ma non sempre è così. Il primo matrimonio elegante alla portata di quasi tutte le classi sociali è nato a Napoli dopo l'ultima guerra e questo fatto ha portato ad avere delle grandi idee nella zona napoletana. Difatti i matrimoni napoletani a livello organizzativo sono conosciuti in tutta Europa. Basta girare un po' e guardare quello che succede nel mondo che vedrete, scoprirete anche voi napoletani che siete più importanti di quello che pensate.